Mi pare che abbiamo fatto un buon lavoro e un taglio complessivamente sui 60 milioni di euro chiaramente aumentando alcune cose perché ricordate avevamo promesso ad esempio che avremmo cominciato ad aumentare i fondi per la cultura che triplicheremo in legislatura, cominciamo già quest'anno, avevamo promesso che non avremmo aumentato le tasse e non le aumentiamo avevamo promesso che i fondi europei erano la priorità su tutto e noi cofinanzieremo per i prossimi sei anni e cominciamo da quest'anno con la quota annuale per arrivare a cofinanziare tutti i 2 miliardi e mezzo perché sono fondi strutturali decisivi per la prospettiva e lo sviluppo della nostra regione non so se avete visto oggi i dati sull'export dicono che noi lo scorso anno siamo cresciuti tre volte la Lombardia e quasi il doppio del Veneto e dobbiamo proseguire a dare strumenti a coloro che vogliono investire anche in quel segmento, in quel settore puntando ad esempio su ricerca e innovazione poi un bilancio che difende gli 8 miliardi di euro della sanità che quindi non calano, di un euro che difende il sistema di welfare confermiamo quel fondo straordinario per la non autosufficienza che avevo detto non avremmo ridotto di un solo euro poco meno di mezzo miliardo di euro un bilancio di una regione che dice che vuole puntare sullo sviluppo e sugli investimenti a tal proposito avevamo detto un piano decennale sul dissesto idrogeologico lo presenteremo appena saremo pronti e appena sapremo dal governo quante risorse arriveranno rispetto a quel piano salva Italia che il governo sta predisponendo ma intanto possiamo già dire che quest'anno avremo avremo oltre 40 milioni di euro che metteremo per interventi a difesa del suolo della costa e per lottare contro il dissesto la mia soddisfazione è quella che a meno di due mesi dalla presentazione del programma e dunque dall'avvio della legislatura siamo già in grado di presentare ciò che entro il 30 pile doveva essere approvato perché contemporaneamente noi dovremo andare poi a prendere anche la legge di riordino istituzionale e l'ultima cosa la chiudo su questo questo forte taglio sulla struttura regione ci ha permesso senza chiedere un euro al governo di trovare i 28 milioni di euro per questo dicevo c'è un taglio superiore al totale dei 60 milioni di euro che serviranno a non lasciare senza lavoro nessun dipendente delle attuali province al netto di coloro che hanno scelto la strada del prepensionamento della mobilità verso altri enti